La fermo qua dicendo che io penso che la strada su cui marciare dovrebbe essere un po' questa e con appunto dietro di sé un'idea di come si costruisce un'identità plurale e che sia modificabile. A me questo pare finito, che sia possibile farlo in Italia. Noi abbiamo due grandi fortune, che l'immigrazione in Italia arriva dopo che in altri paesi, per cui possiamo vedere gli errori fatti da altri e quindi cercare di non ripeterli, perlomeno di farne di nuovi. E l'altra è che l'immigrazione in Italia non è arrivata nella fase fordista, ma è arrivata nella fase post-fordista. Per cui invece che avere le banlieue come avevamo negli anni 50 con l'immigrazione meridionale a Torino piuttosto che a Milano, c'è un'immigrazione che in larghissima parte è dispersa sul territorio, il che rende più possibile un lavoro di questo tipo, purché lo si voglia fare. E perché lo si voglia fare necessita di tre cose. Uno, di modifiche legislative nazionali. E questo sarà l'oggetto di discussione politica anche più pesante di come adesso, diciamo, tra gennaio e febbraio. Due risorse che, ripeto, non sono in larghissima parte risorse per gli immigrati, sono risorse per il funzionamento del welfare, fatta a salva, se volete, questa della lingua italiana che chiede un di più e delle necessari percorsi di mediazione culturale e linguistica che vanno fatte nel frattempo, che chiedono un di più, ma il resto, e grosso modo l'estensione di servizio. Quindi richiede una modifica legislativa, delle risorse per il welfare, cioè un'idea di welfare non come costo, ma come investimento di infrastrutturazione sociale per tenere una società all'onor del mondo. E la terza è che chiede delle modifiche, delle pratiche politiche, non solo delle leggi, del modo di funzionare, perché noi oggi abbiamo una legislazione molto brutta, ma di più abbiamo ancora delle pratiche, essendo che quella legislazione non era frutto così di qualche cattivone, ma di un'idea che è diventata egemone in larga parte, noi abbiamo delle pratiche negative, che magari vengono fatte anche da chi ha parole contro la legislazione bruttissima. Io penso che abbiamo un problema di modifica delle pratiche, che non è garantito dalla modifica della legislazione. A me è capitato in punti di vedere, per esempio di Torino, un campo nomadi, piccolo campo nomadi, c'è un incendio e il comune, dopo un quarto d'ora che c'è l'incendio, spiana il posto dove c'è il campo nomadi, tira il fossato, tutti i bambini del campo nomadi andavano a scuola, alla scuola elementare, che è una cosa per cui uno ci passa degli anni di lavoro per riuscire ad ottenere il risultato, invece lì c'era il risultato e il sindaco del comune, dove c'era il campo nomadi, dice io non li voglio più, e quindi chi se ne frega. Ora, si è rimontato un campo nomadi grazie a Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, il gruppo Abele, cioè grazie al fatto che esiste una società civile degna di questo nome, a differenza dei comportamenti a volte dei decisori politici, si è ricostruito un campo, poi si è aperta una trattativa in cui il prefetto ha giocato un ruolo positivo e si è ricostruito una cosa in cui si garantisce a quei bambini di continuare ad andare a scuola, dove andavano avanti, ma di situazioni di questo tipo, voi me ne potreste raccontare qualcuna, ce ne sono tante, in cui la politica sta più dalla parte del problema che non dalla soluzione del problema. Ecco, io penso che noi abbiamo un problema di modificare le leggi, di mettere le risorse sul welfare, ma anche di costruire un ragionamento non minoritario, non minoritario, che arrivi ad incidere pesantemente. Ed è anche questo, adesso questa la dico con una battuta, ma è il motivo per cui ad esempio il sottoscritto opportunisticamente, se volete, ma non mette al primo punto di ogni discorso sull'immigrazione e la chiusura dei CPT. Perché se io mettessi al primo punto di ogni discorso sull'immigrazione e la chiusura dei CPT, so già che il risultato è vero. Penso che il problema è di avere un percorso che purtroppo per chi ci finisce dentro ai CPT non gli risolverà il suo problema individuale, mi è chiarissimo, ma chi fa politica deve anche saper pagare il prezzo di mediazioni che moralmente sono discutibili, discutibili, eticamente li percepisco per quanto mi riguarda come discutibili, ma che per puntare all'efficacia ti devi porre il problema di come modifichi la legge a partire dalla non produzione di clandestinità, di come modifichi le procedure che non obblighino la gente ogni sei mesi, ogni anno a fare le file e non avere i permessi, e che dentro questo percorso c'è il superamento barra chiusura dei CPT, ma dentro questo percorso, se tolto da questo percorso, è uno scontro in cui noi pesiamo per il 10% della popolazione e il 90% sta dall'altra parte e quindi non ce la fai. Chiusa con questa battuta sull'opportunismo, vi ringrazio dell'attenzione e buon lavoro.